Sono 21 le reti realizzate al Ferraris dalla Samp in questo campionato. Un mese fa l'ultimo gol casalingo lo segnò a Munari al Palermo il 7 aprile scorso. L'ultimo precedente al Ferraris contro il Catania del 7 novembre 2010. La gara terminò a reti inviolate. Ultima vittoria della Samp con il Catania in casa quasi 5 anni fa. Era la stagione 2008-2009 e finì 3-0. L'ultima di Deglio Rossi contro il Catania l'11 marzo 2012. La sua Fiorentina perse in Sicilia 1-0. L'arbitro Celi ha già diretto due volte i blucerchiati quest'anno nelle vittorie interne contro Bologna e Roma.